Indovinate un po' di chi sarà la storia di stasera? Eh? Gianni Rodari, bravi! Un giorno il piccolo Claudio giocava sotto il portone e sulla strada passò un bel vecchio con gli occhiali d'oro che camminava curvo appoggiandosi a un bastone e proprio davanti al portone il bastone gli cadde. Claudio fu pronto a raccoglierlo e lo porse al vecchio che sorrise e disse grazie ma non mi serve posso camminare benissimo senza se ti piace tienilo e senza aspettare risposta si allontanò e pareva meno curvo di prima. Claudio rimase lì col bastone tra le mani e non sapeva che farne. Era un comune bastone di legno col manico ricurvo il puntale di ferro nient'altro di speciale da notare. Claudio picchiò due o tre volte il puntale per terra poi quasi senza pensarci inforcò il bastone ed ecco che non era più un bastone ma un cavallo. Un meraviglioso culedro nero con una stella bianca in fronte che si slanciò il galoppo intorno al cortile litrendo e facendo sprizzare scintille dai ciottoli. Quando Claudio meravigliato e un po' spaventato riuscì a rimettere il piede a terra il bastone. Era di nuovo un bastone e non aveva zoccoli ma un semplice puntale arrugginito né criniera ma il solito manico ricurvo. Voglio riprovare decise Claudio quando ebbe ripreso fiato. Inforcò di nuovo il bastone e stavolta non fu un cavallo ma un solenne cammello a due gobbe e il cortile era un immenso deserto da attraversare ma Claudio non aveva paura e scrutava in lontananza per vedere comparire l'oasi. Certamente un bastone fatato si disse Claudio inforcandolo per la terza volta. Adesso era un'automobile da corsa tutta rossa con il numero scritto in bianco sul cofano e il cortile era una pista rombante e Claudio arrivava sempre primo al traquatto. Poi il bastone fu un motoscato e il cortile un lago dalle acque calme verdi e poi un'astronave che fendeva lo spazio lasciandosi dietro una scia di stelle. Ogni volta che Claudio rimetteva il piede a terra il bastone riprendeva il suo pacifico aspetto il manico lucido il vecchio puntale. Il pomeriggio passò veloce tra quei giochi. Verso sera Claudio si riaffacciò per caso sulla strada ed ecco di ritorno il vecchio dagli occhiali d'oro. Claudio lo osservò con curiosità ma non poteva vedere in lui niente di speciale era un vecchio signore colunque un po' affaticato dalla passeggiata. Ti piace il bastone? domandò sorridendo a Claudio. Claudio credette che lo rivolesse indietro e glielo tese arrossendo ma il vecchio fece cenno di no. No no tienilo tienilo disse. Cosa me ne faccio? Ormai di un bastone tu ci puoi volare io potrei soltanto appoggiarmi mi appoggerò al muro e sarà lo stesso. e se ne andò sorridendo perché non c'è persona più felice del vecchio che può regalare qualcosa a un bambino. Che bella mamma mia che bella questa storia eh? Ci parla del potere dell'immaginazione. il potere dell'immaginazione. Vi ricordate bimbi un po' di sere fa abbiamo raccontato della grande avventura di Dio che crea il mondo, il cosmo no? E dalla sua immaginazione vengono fuori tutte queste milioni di creature diverse no? E noi quando lasciamo galoppare la nostra immaginazione siamo un po' più somiglianti a Dio, al creatore, diventiamo un po' creatori anche noi, creatore di storie, di avventure, avete sentito Claudio no? Con un bastone, il bastone, il bastone diventa cavallo, macchina, astronave, cammello. Il potere dell'immaginazione che fa cantare le cose di tutti i giorni e le fa diventare possibilità insospettate. E poi c'è un'altra cosa che mi piace di questa storia ed è che questo misterioso vecchietto con gli occhiali d'oro, uno che sa vedere in profondità, ha gli occhiali d'oro, che ha uno sguardo speciale, ha subito riconosciuto in Claudio qualcuno che avrebbe potuto fare del suo bastone tante altre cose, mille cose, mille avventure. E quindi questo furbacchione che è il vecchietto gli passa il bastone, no? Come se gli passasse un po' il testimone di una vita. Ci immaginiamo che questo vecchietto abbia cavalcato il bastone e sia stato tante volte anche per lui uno stallone, un'astronave, chi lo sa? Ma arrivato così avanti nella vita dice io voglio lasciare la magia dell'immaginazione a qualcuno che venga dopo di me. Ecco questo Claudio mi sembra un bimbo in gamba, gli lascio in eredità il mio bastone. Allora bimbi chiediamo ai nostri nonni di raccontarci qualche cosa dei loro giochi di un tempo. Oh perché si giocava in modo un po' diverso da oggi eh? Sembra che oggi la nostra immaginazione qualche volta si sia un po' spenta, abbiamo bisogno dei videogiochi che ci dicono loro chi diventiamo, ma noi vogliamo esprimere noi la nostra immaginazione, creare noi i nostri mondi, allora il nostro letto a castello diventa proprio un castello da difendere dagli assalti della sorellina del fratellino. No, stai giù! Eh? Oppure i... che ne so, ognuno si esprima, lascia esprimere la sua immaginazione, che bello! Allora portiamo con noi nella notte il nostro desiderio di diventare signori della fantasia, del regno di fantasia, ha detto qualcuno, e allora la nostra vita sarà ancora più ricca domani. Bimbi, buonanotte!